L'impresa è storica. L'alpinista laziale Daniele Nardi tenterà a gennaio la prima scalata invernale del Nanga Parbat in Pakistan, la cima di 8.000 tra le più difficili e affascinanti del mondo. Un'impresa mai riuscita a nessuno prima d'ora. La mia storia parte dal tentativo di scalata e dalla scalata di molte montagne di 8.000 metri a partire dal K2 e l'Evers. Quindi oggi mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida dove la difficoltà sta soprattutto nelle condizioni ostili dell'inverno, quindi temperature molto basse che scendono anche a 50 gradi sotto zero. La missione partirà il 4 gennaio, destinazione la parete di 8.125 metri, nona montagna più alta al mondo. Da tempo Nardi, che nella sua carriera conta 4.8.000, Everest, K2, Broad Peak e lo stesso Nanga Parbat, ha però ancora un sogno nel cassetto, conquistare la cima in una prima invernale. In un periodo così ostile andare a trovare la finestra di bel tempo e anche le condizioni personali per poter scalare sarà chiaramente la chiave vincente per almeno tentare questa grande scalata. L'impresa, se riuscirà, sarà destinata a entrare nella storia dell'alpinismo imalaiano.